Ciao, ecco l'ultima parte del tutorial per realizzare il vestitino e sarà anche molto breve perché ci mancano ormai poche cose da finire. Una volta quindi completato il primo motivo, prima di andare a fare il secondo dovete mettere tra quindi due motivi 8 giri di maglie alte. Quindi noi eravamo arrivati a fare il motivo più un giro di maglie alte quindi compreso questo bisogna farne 8 in tutti da qui a qui. Poi va bene rifate il motivo nello stesso identico modo con cui avete fatto quello precedente e poi aggiungete 4 giri di maglie alte. Prima di fare il motivo qua finale che si lavora esattamente come questo soltanto che io ho fatto queste parti di colori differenti e quindi i giri 1 e 2 del motivo li dovete fare di un colore, poi il 3 e il 4 dell'altro colore, il 5 e il 6 dell'ultimo colore. Il settimo giro del motivo non dovete farlo perché appunto finisce così in questo modo con queste conchigliette o ventaglietti che siano. Ecco qui non devo dirvi nient'altro perché dovete soltanto ripetere le stesse cose fino alla fine. Invece adesso facciamo l'ultima cosa che ci mancava che era appunto la rifinitura qua della parte posteriore del corpetto, cioè questa parte e i bottoncini, ma sarà una cosa molto breve e semplice. prendete la parte posteriore della canottierina e in particolar modo la parte destra, ecco quindi questa parte qui, che sarà quella dove andremo a fare le asole, invece i bottoncini li metteremo nella parte sinistra. Ok, prendiamo quindi la parte destra e lungo questo margine ne dobbiamo mettere 20 maglie basse per rifinire. Adesso punto l'uncinetto quassù all'inizio e aggancio il filo con una catenella. Poi vado in questo punto e faccio la seconda maglia bassa. Ecco, 2. Poi in questo spazio qua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 e qui in fondo ne mettiamo 2, quindi 19 e 20. Ecco, abbiamo fatto quindi 20 maglie basse lungo questo margine. Adesso siccome io ho stabilito di mettere i bottoncini diciamo a questa altezza qui, uno proprio all'inizio qua per chiudere proprio la scollatura qua sopra e uno qui, da queste parti. Ecco, quindi adesso per far tornare diciamo i bottoni in quel modo, facciamo così, facciamo una catenella per girare, giriamo il lavoro e questa sarà la nostra prima maglia bassa, no? Sopra a questa qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ecco, fatte 7 maglie basse faccio 2 catenelle, questa sarà la nostra asola, questa centrale diciamo, lasciamo 2 maglie basse di base, quindi 1 e 2 andiamo sulla terza e facciamo altre 7 maglie quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo quindi le 2 catenelle per l'asola questa più alta e saltiamo 2 maglie di base e ci rimangono da fare 2 maglie basse, quindi 1 qui e 1 sulla catenella qua che avevamo utilizzato all'inizio, ovvero questa qui. Ecco, per cui le asole sono questa e questa, le 2 asoline, no? Per i bottoncini. A questo punto vado di nuovo sopra al mio lavoro con altre 20 maglie basse, quindi cosa faccio? Una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, giro il lavoro e non vado qui sopra perché questa è sostituita appunto da questa catenella, nella successiva faccio 2, poi vado dentro l'asola e faccio 3 e 4, poi 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dentro l'asola successiva con 2, quindi 12 e 13 e poi di nuovo sopra le maglie basse, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e sopra qua la catenella con cui avevamo iniziato, quindi 20. Ok. Ecco quindi questa rifinitura nella parte destra della canottierina. Ecco qua. Adesso tagliamo questo filo, noi ne lasciamo un pezzetto che ci servirà per la cucitura finale, con diciamo una lunghezza del genere, è sufficiente. Nella parte sinistra qua della canottiera dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, soltanto senza fare le asole, quindi facciamo 3 giri con 20 maglie basse e cominciando questa volta da qua, così le maglie basse avranno lo stesso verso. Ecco, quindi mettiamo l'uncinetto in questo spazio, prendiamo il filo, facciamo la nostra catenella, quindi aggiungiamo il filo, agganciamo il filo e andiamo facendo le maglie basse, quindi 2, poi 3, 4, 5, 6, 7, quindi a questo punto finiamo facendo 20 maglie basse, facciamo la catenella, giriamo e quindi torniamo giù con un altro giro di 20 maglie basse, ancora una catenella, 20 maglie basse e finiamo i 3 giri di maglie basse qua sopra. Praticamente la stessa altezza di questa rifinitura di qua, soltanto senza fare le asole. Ecco, quindi come vi dicevo ho finito il terzo giro di maglie basse qui. Adesso questo filo qua si può tagliare e fermare tranquillamente, così come si devono fermare. Questo, cioè il filo con cui avevamo cominciato, no? La parte destra e questo qui con cui avevamo iniziato la parte sinistra, ecco. Mentre con questo questo filo qua che vi avevo fatto tagliare, no? Piuttosto lungo, andremo a cucire. Ecco, adesso che cosa facciamo? Cuciamo questa parte, no? Per cui cerchiamo di metterla sovrapposta bene l'una con l'altra. Ecco, e andiamo a prenderlo in questo modo, cercando di seguire la linea, no? Di queste maglie alte che avevamo qui. Prendiamo quindi un punto qui dentro e andiamo nello stesso punto in cui usciva il filo, quindi qua. Prendiamo più avanti e facciamo, no? Un altro punto e poi qua l'ultimo. Ecco. Adesso mettiamo l'ago sotto, così, e andiamo ad attaccare quest'altra parte, quest'altro lembo qui di rifinitura. Dalla parte quindi del rovescio. E che cosa facciamo? Vediamo di andare a prendere qua proprio in punta, qua. Poi ancora, no? Un pezzetto più avanti e poi l'ultima parte. Così. Adesso quindi fermiamo, no? Questo filo lungo questo margine qua, quindi sotto le maglie, tranquillamente. ecco. E lo tagliamo in questo punto qui. Quindi il risultato, no? Ecco, dalla parte del dritto sarà questo. Così. E a rovescio questo. Adesso per il bottoncino che cosa faccio? Dopo averlo sovrapposto bene questa cosa qui. Metto l'ago dove ho infilato, no? Il filo di sigaretta per attaccare il bottone. Dentro l'asola. Così. Ecco. E vado dall'altra parte. In questo modo. Così che ho preso la misura di dove deve stare, no? Appunto il bottone. Ecco. Ecco. Prendo il bottone e cerco in qualche modo di attaccarlo. Ecco, no? Facendo dei passaggi in questo modo. Ecco. Ecco. Adesso l'ultima volta, no? Torno sopra senza andare dentro al foro qua del bottone. Giro un po' intorno così con il filo e rimetto il filo sotto. Adesso lo giro e vado a fermare il filo. Con qualche puntino qui. Posteriormente. Bene. Ecco. Andiamo quindi a vedere, a mettere il bottoncino, no? E a vedere se ci piace come il risultato, appunto, come è avvenuto alla fine. Ecco. Penso che vada bene. Nello stesso modo mettiamo quest'altro bottone qui e abbiamo terminato il lavoro. Ecco. Con questo tutorial abbiamo finito quindi a realizzare il vestitino. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a realizzarlo, che vi diano soddisfazione le persone a cui magari lo regalerete. Certo non i bambini, che magari preferiranno un giocattolo, ma le loro mamme. Se invece lo fate per le vostre bambine o i vostri nipotini, stessa cosa, sarete soddisfatte sicuramente quando lo indosseranno. Se vi sono piaciuti i tre tutorial, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie per tutti quelli che si sono iscritti per le visualizzazioni e poi magari mandatemi foto, video, quello che volete dei vostri lavori che avete realizzato e li mettiamo su Google Plus o qua su YouTube se sono video e li condividiamo tutti così magari guardiamo le cose che abbiamo realizzato e ci divertiamo tra di noi. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!